Oh, ci voleva. Lo sai che non riesco a decifrarti? Sei alquanto imprevedibile. E anche misterioso. Ok, senti. Mi piacciono le novità. Ludere la vita è fare un po' di casino. E se non ti sta bene, allora diamoci un taglio. Sì, che mi sta bene. Io non so come fa la gente a vivere la solita monotona vita tutti i giorni. No, vada a spararsi. In fronte? No, sul serio. Io uscivo con un tizio che mi dava l'idea di essere felice e contento di passare la vita come se stesse dentro una specie di barattolo. Oddio, che frustrazione. Io gli vorrei dare una bella scrollata. Dirgli, ehi, svegliati, ti stai perdendo un dettaglio, la vita. Sì, è vero. Sì. E com'è finita col tizio che viveva nel barattolo? Chiaro, non ha funzionato. È una lunga storia. È una lunga storia. È un'unica storia. Grazie.